L'incantevole stazione Dolomitica vive intense ore sportive per i littoriali della neve e del ghiaccio. Mentre la natura provvede enormi blocchi di ghiaccio a decorazione del paesaggio, gli uomini vi scolpiscono l'immagine del duce nel cui nome la gioventù sportiva d'Italia scende in campo. Alla presenza del segretario del partito si sono svolte le prime gare di disco sul ghiaccio e di guido slitta. Alla presenza del segretario del partito si sono svolte le prime gare di disco. Alla presenza del segretario del partito si sono svolte le prime gare di disco. Alla presenza del segretario del partito si sono svolte le prime gare di disco.